Buongiorno Sirmione. Stamattina nell'arrivare in comune ho fatto un bell'incontro. I volontari dell'Associazione Giovani pronti a partire per distribuire i buoni spesa e le mascherine. Un' immagine che ci dà forza in questo momento così difficile. Sono 46 le persone positive al Covid a Sirmione. Se non vogliamo che i numeri aumentino, continuiamo a restare a casa. Restano a casa i bambini, degli asili e delle scuole materne. Sono quattro le strutture presenti nel nostro territorio e sono dirette autonomamente dai comitati di gestione. Da sempre le sosteniamo per abbattere le rette a carico dei residenti. In questo momento abbiamo deciso di sostenere completamente le spese di gestione così da sollevare le famiglie dal pagamento integrale della retta. Un altro aiuto concreto in favore della nostra comunità.